Scuole precari, il Governo ha finalmente definito la data per il concorso straordinario che dovrebbe portare all'assunzione di oltre 30.000 insegnanti su oltre 60.000 aspiranti e riguarda quegli insegnanti che abbiano almeno 3 anni di servizio alle spalle. Assunzione settembre 2021, si parte il 22 ottobre, prova scaglionata fino a metà novembre, sarà una sola prova scritta con 5 domande aperte. 3.000 ai precari sono nel Vicentino in attesa di questa chance, concorsone atteso anche dai sindacati che però vorrebbero maggiore attenzione alle necessità degli istituti. E' una necessità al concorso, su questo non c'è minimo dubbio, anche se noi avremmo preferito fare un percorso anche diverso, che è quello di procedere alla stabilizzazione dei precari che hanno più di tre anni di esperienza negli istituti, nei territori in cui già operano oggi, in cui insegnano già da tanto tempo. Cerchiamo di rispettare anche l'esperienza e dare continuità agli istituti scolastici di oggi. E' complicato continuare a non stabilizzare insegnanti nello stesso istituto, questo dà scontinuità ai figli ma anche alle famiglie. La sfida però rimane la modernizzazione della scuola, i soldi del Recovery Fund potrebbero essere la chiave di volta. C'è bisogno di fare in modo che la nostra scuola sia un po' più capace di cogliere la modernità del mondo del lavoro, per poter fare quell'incrocio, quel matching che è necessario ai nostri figli per poter lavorare. Poi c'è bisogno di investimenti importanti, anche tecnologici, non solo infrastrutturali nel percorso scolastico. Intanto nemmeno il tempo di annunciare la data del concorso che è già scontro più di 5 stelle sul giorno, che i democratici vorrebbero spostato verso le festività di Natale, mentre i pentastellati non ne vogliono nemmeno sentir parlare.